Sono Emanuela Carletto e mi occupo di docenza, di formazione, in particolar modo riferita all'espressione delle soft skills, competenze trasversali. In questi ultimi due giorni in Skill Lab abbiamo lavorato con un gruppo allo Shackleton's Game, un business game particolarmente entusiasmato che racconta e fa vivere ai partecipanti le esperienze di Ernest Shackleton, che fu un grande avventuriero e esploratore, in particolare del Polo Sud. Siamo adesso in chiusura, quindi in questi minuti stanno facendo la discussione di debriefing finale. Il gruppo è andato molto bene, sono stati in gamba dopo una prima parte di allineamento alle regole, al gioco e di adattamento ai ghiacci, hanno capito bene che cosa dovevano fare e hanno dimostrato un entusiasmo, una motivazione, una grinta incredibile, tanto ad aver raggiunto il risultato finale di aver completato sia la missione, sia l'apprendimento, quello proprio sul tema della leadership, che è quello che permea tutta l'avventura. Grazie a tutti. Grazie a tutti.